Bentornati fratelli di tuberanza in un nuovo episodio su piante e contro zombie Garden Warfare 2, amici miei uno dei giochi più richiesti su questo canale Così ho deciso di premiarvi e vi dirò di più se questo episodio raggiunge e supera i 3000 pollicioni all'insù Io ne porto altri, ma tanti altri Ma torniamo al video di oggi perché giocheremo una modalità tra virgolette diversa Chiamata supremazia erbosa in cui dovremo attaccare oppure difendere dei punti strategici Questo dipenderà dalla nostra fazione, se piante oppure zombie Scusate la lentezza raga ma purtroppo sto portale è un po' vecchiotto, funziona con quella pala eolica Tombe e giardini, grande nord bianco di notte Ragazzi questa è la casa degli Stark, non so se seguite il trono di spade, altrimenti recuperatelo subito Allora, a quale fazione apparteniamo? Piante oppure zombie? Saremo piante Signori miei, io direi di iniziare subito con la nostra rosa O Rosalba o Roselia se preferite Dobbiamo difendere Ok, ha laggato di brutto ragazzi, non so se avete visto ma È una cosa incredibile Questa è la zona da difendere Quello è un nostro amico morto Ti benediciamo Eliminazione Ah, ciao fratello Dove vai? Dove vai? No, 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 no Ti trasformo in una capretta Mamma mia ragazzi Questa si chiama la magia di Sgarbi Uh, fiori curatore Sì, 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 questa mi serve Curami tipo subito Attento frate, attento frate Uh, ti ho salvato amico Aspetta, guardate là sopra Va bene, lo hai ucciso tu Vabbè, te lo concedo Dai, 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 dai Che quelli li prendiamo tutti Dai, 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 dai Forza, forza Mamma mia, doppia di tube Mamma mia, che fa tube Quello sta chiamando il bot Mamma mia, tripla Porca miseria No, non posso utilizzare nessun perk No Ragazzi, eravamo in serie Mannaggia la miseria Vabbè, dai Non ci demoralizziamo Perché stiamo giocando alla grande Ma proprio alla grande Cos'è? Impresa completata Abbiamo vinto già 25.000 monete Moltiplicatore esperienza Top, raga Guardate qua Gli zombie Non hanno conquistato Un emerito E noi ci siamo pappati 30.000 monete Che vogliamo di più? Anzi, vi dirò Peccato che siamo entrati Troppo tardi Altrimenti Eravamo lì Sul podio Attacco erboso Base lunare Z In questa modalità Se siete piante Attaccate Se siete zombie Difendete E noi siamo zombie E giocheremo con il Centurione Ragazzi È da un botto Che non lo utilizziamo Ed è anche Molto ma molto Forte Vai Ah, è vero Regà In questa mappa Non c'è la forza Di gravità Quindi ogni salto Viene prolungato Guardate lassù È morta No Il mio fratello Tu non lo tocchi Capito? Aspetta Aspetta Che forse Forse sta arrivando Da noi No, se ne sta andando Guardate lassù Oh, eccola No, no, no Ma dai Ma non è vero Aspetta Sono vivo? Oh, grazie Sta arrivando Sta arrivando Col cavolo Che me prendi Uh Ti Ti massacro Proprio Bravi così Ragazzi Bravissimi Mazzano Nel modo in cui Mi hanno salvato Ragazzi Meritano il Nobel Per la pace Guardate Gli ho dato fuoco Mo ci lancio pure la bomba Ed è morto È morto Perché comunque 4 nell'arco di Tot minuti O di tot secondi Vi demolisce Uh, lì c'è una pannocchia Che ho colpito praticamente In fronte E che adesso Sto demolendo 4 4 4 Ammazza Se sta salva Si è salvata Anzi Ma è così Chi è questo? Ehi Lo sai che il fuoco È forte contro il ghiaccio Amico Lo sai che adesso Ti sto dando fuoco Come si farebbe Con un coniglio Che cosa divertente Uh 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 Occhio Rocchio ragazzi Stiamo a morire Non sia mai Non voglio morire Non ci penso neanche Che qualcuno mi curi Perché Su via Dottore Eh che cosa vogliamo Di più dalla vita Cioè un lucano Eh che ci faccio Con lucano Se ho l'idrante Che mi cura Ah eccolo Chi era Boom Vediamo un po' Se ti arriva Una bella zappata In fronte Eh se non ti sei Scansato in tempo Fra Vuol dire che c'hai Qualche ritardo Sul pad Anche mentale Grazie fratello Stima Uh l'abbiamo uccisa No No Ok Ci siamo salvati Non chiedetemi come Ma ci siamo salvati Oh no Oh no Oh no Dai 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 Vai 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 Una volta che l'avete preso A schiaffi È il top Vai Mazza rega Ci stanno facendo L'assalto Assalto piante Bam Concentrazione No eh Ho costruito il bot Volevo rianimare Volevo fare un sacco Di cose Però abbiamo vinto Perché le piante Non hanno fatto in tempo Number one Quindi raga Abbiamo tempo anche di giocarne un'altra Cioè le stiamo vincendo tutte Ci siamo Ci siamo 4500 11500 Non male Non male Dai noi ci accontentiamo Siamo sul podio Volevi Volevi Col cavolo Vabbè Attacco erboso Base lunare Neanche il tempo Di Saremo di nuovo Piante Ok Raga Io mi trovo benissimo Con rosa Quindi anzi La chiamerò Roselia O Rosalinda Non lo so Sono indeciso Magari Hashtag Scrivetemi il nome di rosa Fatemi sapere Che nome gli dareste voi Perché io sono indeciso Dove cacchio è andato Sto evocando Sto evocando Evocato Ah Penso che sia il portale Del teletrasporto Aspettate che evoco pure questo Troppo utile rosa ragazzi Mi dispiace ma Così li possiamo prendere alle spalle Avete visto ragazzi Quando so bravo eh Ma chi vi va beh a voi Chi vi va beh Ovviamente il tube Vai Mettiamo anche una bella pianta qua Che spara Ah Là sopra posso Posso evocare ancora Sì 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 No 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 Sciuri 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 Wow wow Ti trasformo pure in capretta Raga Due zombolini Con i mecha Inarrestabili Uno col drago Ci dava fuoco E un altro Con non ho capito cos'era O cosa fosse Dai 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 Forza dai forza Dai dai che l'abbiamo L'abbiamo preso Aspettate no Quello non andiamo a cacciare Rianimare Quello si è rianimato da solo Questo Si è rianimato da solo Pure questo Vabbè rianimato Giocate da soli allora Dai Pensavo fosse una pianta Rianimiamo la nostra rosa Cioè la nostra amica Ed evochiamo Facciamo sto portale Dai dai Vai a evocare le altre cose Sbrigati Cosa Una mina Non sapevo ci fosse una mina lì Chi è Chi è Chi è Chi è Chi è Oh my god La bomba fagiolino Ti fa saltare per l'aria Però amico mio Eh sì Ci puoi contare Adesso mi provo Questa Guardate ce l'abbiamo quasi L'abbiamo conquistata Evviva Meglio Meglio così Meglio Regà Quando vedete la mischia Sparate Come raccogli gnomo Che cosa è sta cosa Stai evocando Stai evocando Raga Difendetemi Ok C'è il portale per voi C'è porta per voi Nuovo programma Uh che è Grazie Grazie raga Un po' di gratitudine Per chi si fa in quattro Ed evocare i portali No 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 I miei amici No si toccano No si toccano Così impari Ah Stato rianimato Questo lo rianimo io No Stai rianimato da solo Ok Eh rianimo No 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 Mazzarega lì stavano piovendo Veramente Boh Cosa Una mina segnaletica Io non ho veramente parole Comunque stiamo giocando Molto molto bene Dai 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 Che li ho immobilizzati Quelli giù Dai 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 Forza 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 Sparategli a tutti Scusa che cosa mi ha ucciso Ma chi è questa Ah Lo zpg Vabbè Quella ha sparato una botta così A cavolo E mi ha beccato Arriva Tube Ci pensa lui Che rianima Uccide Spacca Fa tutto Tutto da solo Sì 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 Non ce n'è per nessuno Levate Levatevi tutti Tiè Le mobilizzo pure Eh vabbè Oh E che cavolo E che spara questo I missili della NASA Ti posso rianimare io Ragazzo Tranquillo Ma quante cose sto facendo Ragazzi Sono multitasking Proprio E siamo saliti di livello E mi sembra Anche giusto Miglioria zoom Immobile Oh Ma regà Ma scusate Ma non ci sta nessuno Qua dentro Cioè come ho fatto Ah no Perché mi ha ucciso un altro Vabbè Dai 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 Che attivo il portale Forza forza Regà passate tutti Sì sì Tutti dentro Tutti dentro Vai 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 che ce la possiamo fa Tempo rimasto Cosa Che dobbiamo famo Ma i miei ragazzi Tu tuberanza arriva e Levatevi Noo Beccato quella Oh ciao fratello Oh qua c'è un altro Ciao amico Mamma mia Tuberanza Nessuno lo fermerà Nessuno lo fermerà Che capretta Regà Farà mai Questa è una benedizione Proprio eh E fa male Sta capretta Incredibile È stato bravo Sì forse devo spingere Proprio che sta palla Lì dentro Al bersaglio Delle piante Vai E vai ancora Forse abbiamo segnato di nuovo E mi so eh Vai 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 Attenzione Tuberanza e Brevoic Attenzione Sono Ibra Credibile Proprio lui È Roselia È Rosalinda Incredibile 5 a 1 A due minuti Dalla fine Ciao E tu diventerai Una caprezza No raga Non ce l'ho fatta Allora ti immobilizzo E poi ti uccido Bene Uccido anche te poi Oh raga Abbiamo fatto quasi Due livelli E non so pochi Due livelli eh Ma levati Io te ne tocchio la vita Oh raga Secondo me questo È uno dei giochi Più belli Che si possa mai portare Su Youtube Italia Cioè è troppo divertente Dai Guarda quanto sono bravo Immobilizzato Ucciso No raga Oramai sto gioco Non ha più segreti Per noi Ve lo dico Cioè io voglio sapere Proprio In classifica Quanto siamo Perché abbiamo fatto Un botto di kill Le piante hanno segnato Strano Siamo 8 a 1 Sto sciolto proprio E tra poco mi vado a fare Pure un altro livello È finita È finita A san zombie Ragazzi Le piante Vincono Per ben 10 11 12 Tu lo so Boom Che modalità Ragazzi Che modalità E che divertimento Cioè vi giuro Guardate Pam 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 Meglio di così Guardate quanto ci siamo pappati Guardate 34.000 in una partita E non siamo sul podio Com'è possibile Un 57 uccisioni Ha fatto quello Ok Eccoci qua Apriamoci Due pacchetti veloci Regà perché sto video È durato tantissimo Vai Uno esclusivo Vabbè Quello ci sta Del zone primavera Se si sbriga a caricarli Magari Eccolo qua Vai Sì 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 Aprine uno Che cosa troviamo all'interno Speciale Ah sono dei Degli equipaggiamenti Niente di che Vabbè Adesso però Voglio prendere Questo per l'eroe No che è questa Che è sta storia Ah non ho 75 65 Vabbè Allora Prendo questo Da 50 Cabù Ah Roba comune Super rara E anche qualcos'altro Va bene Allora amici miei Io Penso che per oggi Sia più che abbastanza Non mi rimane Che darvi L'appuntamento Con il prossimo video Sempre E solo qui Su tuberanza Ciao 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 Ciao